C'è curiosità, abbiamo fatto secondo me un buon lavoro ed è chiaro che ora la partita dirà in che condizione è la squadra. Abbiamo lasciato un momento importante sotto il profilo della condizione atletica. Adesso dopo 20 giorni riprendiamo un iter che avevamo smarrito quantomeno in termini di continuità di partite. Abbiamo questa opportunità di dimostrare le condizioni con le quali abbiamo lavorato e metterle in pratica per quella che sarà la gara di domani. Anche con gli sconfitti dal Panuzzi sarebbe utile per l'autostima di questa squadra? Certo, zucchero non guasta bevanda, non perdere non fa male, però io sono sempre dall'idea che bisogna giocare bene, fare buona prestazione e che le partite penso che possa avere più ordine di successo a fare le cose per bene che a farle così. Può succedere pure magari una partita che giochi male e vinci per l'amor del cielo. Noi ne abbiamo perse tante giocando bene. Spero ogni tanto che ci gira anche un po' dalla parte nostra e se qualche volta dovessimo vincere magari, si può dire, sculando? Si può dire, non è perfetto ma si può dire, vorrà dire che per una volta mi chiuderò gli occhi anch'io.